Un caro saluto a tutti quanti, oggi ragazzi parliamo di intelligenza artificiale ma non in modo positivo. Come sapete questo è un argomento molto spinoso, ma è un argomento che secondo me è iper interessante, soprattutto alle persone come me che hanno avuto la fortuna di vivere tutta una sorta di evoluzione tecnologica di intelligenze artificiali che abbiamo attraversato con anche la fantasia, con scrittori, con film che ci hanno visto, ci hanno mostrato quasi sempre in modo negativo ma talvolta anche in senso positivo le intelligenze artificiali e vedere adesso che esistono, adesso che le stiamo applicando, sia lati positivi che lati negativi. Come sapete non ho una posizione netta per il semplice fatto che secondo me, come tutte le cose di questo mondo, per me la discriminante è sempre il dipende, non può esistere qualcosa di positivo che non abbia anche un lato negativo e questo vale per tutti, vale per gli esseri umani e vale naturalmente anche per le cose. Facendo rapidamente un brevissimo excursus di quello che ho detto anche tempo fa, trovo che se funzionasse in modo corretto, debard, cioè il sistema di intelligenza artificiale applicato ai semafori, questo è un esempio idiota ma per farvi capire, trovo che sia abbastanza intelligente, se un sistema in un incrocio, cioè una sola auto che deve aspettare tutto il tempo del rosso, non ha senso, il sistema fa in modo tale che track l'auto possa passare. Se in un incrocio la percentuale di auto è maggiore generalmente perché lui calcola in un certo modo, è ovvio che il rosso e il verde vanno calcolati sotto questo punto di vista, che non si può fare né lato umano né lato meccanizzato se non c'è un discorso dietro. Ma questo è un esempio, io sono anche per le auto con intelligenza artificiale perché gli umani sono terribili in auto, eccetera eccetera eccetera, ma questo va bene. Ma ci sono naturalmente anche dei lati negativi e in questo caso ne parliamo in modo assolutamente negativo perché sapete che comunque lato intelligenza artificiale si possono generare delle immagini indistinguibili dalle foto reali e immagini generate completamente dall'intelligenza artificiale. Voi adesso mi starete per chiedere ma cosa vuol dire immagini generate totalmente dal nuovo e non sono riconoscibili. Io basta che la faccia con Photoshop per fare un esempio e un umano può, diciamo così, fingere qualunque cosa. No, in realtà non funziona così. Qualunque immagine venga modificata da voi con Photoshop, con qualsiasi altra cosa, lascia comunque degli artifici. Non è vero che questa cosa qua, ovviamente bisogna avere degli strumenti particolari per accorgersene, però un'immagine modificata con un qualsiasi programma di editing, basta aprirlo con certe tipologie di programmi, modificare le luci, andare a vedere le filigrane, eccetera eccetera eccetera, e si va a scoprire le immagini modificate artificialmente rispetto allo scatto RAW o lo scatto comunque fatto con un'immagine. Naturalmente l'intelligenza artificiale cosa fa? Crea un'immagine e la lascia lì, cioè lei la crea e tutto quello che viene fatto è lo scatto fine. Quindi non ha inserito, non ha fatto un fotomontaggio, non ha unito cose, ha semplicemente creato uno scatto e l'ha lasciato lì. Questa cosa naturalmente può generare immagini realistiche per una persona che le analizza, ma con elementi di fantasia. Quando sono palesi, ovviamente uno se ne accorge, quando non lo sono può generare dei problemi. Questo è un problema lato intelligenza artificiale negativo. In questo caso, ci tenevo a fare questa introduzione un po' lunga, però sapete che i miei sono un po' dei mini podcast, quindi ci tenevo a farvi questo discorso, che può magari generare anche in voi dei commenti o una discussione in merito. Ma in questo caso parliamo del Guardian, famosissima testata con Microsoft, che viene accusata di aver danneggiato l'immagine del Guardian. Ma per quale motivo? Il motivo è molto semplice. Si è parlato di una... E poi tra l'altro adesso vi parlerò della pubblicità, che non c'entra con l'intelligenza artificiale, però in realtà ha molto senso da questo punto di vista, perché già adesso avviene questa cosa. Comunque succede che loro parlano della morte di una persona, che si chiamava Lily James, e ad un certo punto il sistema di intelligenza artificiale di Microsoft fa spuntare una sorta di exit poll, cioè al contrario di Paul, Paul, no, exit poll è un'altra roba, ma in questo caso di Paul appunto, cioè dei sondaggi. Oh, ecco, non mi veniva la cosa. Il sondaggio praticamente diceva, secondo voi, come è morta questa persona? È morta con questa cosa, quest'altra, eccetera, eccetera. Cioè una cosa che ha fatto fare da una parte una figura de merda totale al Guardian, perché sembrava che il Guardian avesse fatto... Cioè loro parlavano della morte della persona fine, ma se tu lateralmente ti ritrovi quello che potrebbe essere uno spazio pubblicitario, uno spazio di qualcosa gestito esternamente, e ti ritrovi il sondaggio generato in modo procedurale di un sistema che dice, ma secondo te com'è morta questa persona? E ha elencato le possibili cause di morte. Ovviamente la gente cosa fa? Si arrabbia col Guardian, perché crede che sia il Guardian a fare questa cosa. Naturalmente loro, tra non averlo fatto, sarebbero totalmente idioti a fare una cosa del genere, e quindi accusano Microsoft, perché a loro volta è stata Microsoft ad aver generato questa cosa, e Microsoft dirà, ma non sono stata io direttamente. Lo ha fatto l'intelligenza artificiale, quindi capite anche cosa può succedere da questo punto di vista. Ora, noi adesso parliamo di questo, questo è stato il caso, ve lo riporto anche appunto per una questione di logica, ma tutto questo, che ripeto, noi chiamiamo intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, nasce comunque da una logica di marketing malata. Io ricordo che a tanto tempo fa, ma è stata una cosa che mi ha lasciato, mi ha colpito profondamente, avevo aperto un quotidiano, ma i tre più famosi nazionali, adesso non ne cito neanche, ma semplicemente perché non mi ricordo quali, ma immaginatevi, tre più importanti, uno a caso, e questo articolo parlava dell'ISIS e nello specifico parlavano del fatto che, se non sbaglio, una persona era stata decapitata. Ok, ovviamente quando voi aprite questo tipo di articoli, che tra le altre cose cita questa cosa, questo argomento molto forte, parte comunque della pubblicità in tutti questi siti. Naturalmente il sito parlava della persona decapitata, parte la pubblicità che dice hai mal di testa? Prenditi, che ne so, la pastiglia XY. Io ricordo che ne sono rimasto, cioè mi aveva dato veramente fastidio, e avevo scritto alle persone del giornale, non avevo fatto la polemica, non me ne frega nulla a me di fare questo genere di cose, però ho detto, signori, vi sembra normale una cosa del genere, visto che comunque si possono, quando voi mettete pubblicità, puoi metterla libera, naturalmente però, l'ad che viene messo, può essere comunque minimamente veicolato, è ovvio che non puoi veicolarlo per dire non mettere farmaci sul mal di testa, davanti ad una cosa, ad un argomento del genere. probabilmente è il sistema che ha associato le due cose, però ricordo che questa cosa mi aveva dato veramente, veramente, veramente fastidio, perché sembrava come se il giornale volesse speculare su questa cosa, mentre è ovvio che né chi ha pubblicizzato il mal di testa, né chi ha fatto l'articolo, voleva mixare queste cose, perché da pietro ci sarebbe un bieco, disegno, diciamo veramente assurdo, ma semplicemente fanno queste associazioni veloci. Questa cosa naturalmente deve generare delle discussioni, potrebbe essere stato involontario, potrebbe esserci stato tutto quello che volete, però è qui che secondo me dovrebbe entrare l'intelligenza artificiale in un futuro, cioè nel lavorare sul contrario, cioè nell'interagire in modo tale che situazioni del genere non accadano, perché è ovvio che quello che ha suscitato le persone, in questo caso parliamo della morte di questa persona, ma ripeto, io le ho vissute in un'altra situazione e in un contesto che è comunque abbastanza abbastanza simile. Ora, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete voglia di commentare sull'intelligenza artificiale, che sono comunque argomenti veramente molto interessanti, tra l'altro io adorerei studiare i metodi, perché poi ogni intelligenza artificiale ha dei propri metodi, per come si insegna le intelligenze artificiali, perché ci sono proprio dei modelli comportamentali da studiare e da capire, per come alcune intelligenze artificiali imparano a ragionare in un determinato modo, perché comunque sono argomenti che, ripeto, indipendentemente dalla pericolosità o meno che possano esserci, sono comunque argomenti molto interessanti dai quali comunque che vogliamo uscirne, restarne o sbattercene, però comunque dovremmo farne i conti e quindi è molto importante sviluppare un'opinione per farla conoscere. e per farla, per conoscere, per parlare di questa cosa bisogna ovviamente conoscere, eccetera, eccetera, vabbè, mi sono impappinato alla fine, non so perché, comunque vi voglio bene, alla prossima e ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.